Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi vi porto indietro agli ultimi febbraio che abbiamo avuto delle giornate veramente miti e dove mi sono dedicato a cercare il bus in varie cave dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video iscrivetevi al canale se non siete buoni iscritti mi raccomando superiamo i 120 mi piace per altri video al bus dunque direi non perdere il suo tempo e via con il video iscriviti al canale la temperatura del genere sono 20-22 gradi esterni e acqua così dovresti trovare di sospesi ah lo vedo lo vedo c'è un bus che lo segue c'è un bus che lo segue si è girato qua oh merda si lo so come ti ho volto a texas così? si? si ok perfetto un po' di parrucchino di pere un po' di parrucchino Grazie a tutti. 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 No, l'ho perso. Grazie a tutti. Sì. Grazie a tutti. È il lucio più piccolo che abbia mai preso questo. Grazie a tutti.